E' necessario dunque essercitarsi nell'osservare ed esperimentare per fondare in questi due buoni mezzi un'acuta e profonda contemplazione, rappresentandoci il primo, le cose come sono e da sé si variano, l'altro come possiamo noi stessi alterarle e variarle. Federico Cesi, Accademico dei Lincei, 1611 Accademico dei Lincei, 1611 Accademico dei Lincei, 1611 Accademico dei Lincei, 1611 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti